Salva gente, appena terminata la partita tra Milano e Roma andiamo subito a parlare prima però come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti e di mettere un like se vi andrà alla fine di ogni video allora, una partita veramente rovinata da un arbitraggio che io non veramente è... il calcio secondo me è umiliato da arbitraggi del cenere cioè ne perde tantissimo cioè un Giacomelli che ancora arbitra in serie A, secondo me neanche in serie B dovrebbe arbitrare dovrebbe ripartire proprio dalle serie proprio inferiori, dalle serie cadette perché o impara nuovamente, rimpara ad arbitrare o deve smettere proprio, va tolto un arbitraggio presuntuoso, sbagliato noi laziali conosciamo bene Giacomelli non si smentisce mai, a ogni partita deve fare le sue scelte sbagliate senza andare a consultare magari un VAR che comunque questa volta secondo me ha anche avallato questi errori quindi una partita diciamo rovinata ma che in realtà nei suoi errori ha quasi equilibrato le cose dico quasi perché secondo me c'era forse una cosa che andava a favore del Milan e non è stata vista comunque andiamo a parlare più nel dettaglio della partita un Milan, un ottimo Milan secondo me, un buonissimo Milan che ai punti fosse stato un incontro di Vuggilato probabilmente avrebbe meritato con almeno 3-4 punti di vantaggio di portarsi a casa l'incontro però dall'altra parte una Roma che è sempre stata presente nel campo sempre stata pericolosa soprattutto nella fase offensiva è stata un pochettino più incerta nella fase difensiva ma comunque un'ottima Roma che ha tenuto e ha contenuto il Milan proponendosi anche molto bene in avanti diciamo le due colonne, Ibrahimo vincito da una parte e Zeko dall'altra hanno dato il loro contributo per portare a casa il risultato il portiere della Roma, Mirante, è stato molto più efficace rispetto al portiere del Milan che nel primo gol è sembrata fare l'uscita alla stracoscia cioè un'uscita proprio a cavolo e ha consentito così il pareggio della Roma una Roma che diciamo a lunghi tratti sembrava comunque poter raggiungere ugualmente il pareggio o comunque potersela giocare alla pari con il Milan però insomma partita condizionata anche da certi episodi che ripeto sono andati poi a pareggiarsi quasi totalmente perché viene dato un rigore alla Roma che assolutamente non c'era era proprio evidentissimo veramente le Milan erano giustissime perché comunque bastava rivederlo infatti posso capire che l'arbitro sia sicuro di aver visto una cosa sbagliando ma il VAR non può non vedere anche perché subito appena hanno ritrasmesso l'intervento hanno fatto rivedere l'intervento si è visto subito che Pedro andava a schiacciare il piede del difensore del Milan quindi il fallo era di Pedro e non viceversa quindi il rigore assolutamente non c'era però Giacomelli ha insistito e ha dato il rigore dall'altra parte però c'è anche da dire che c'è un intervento in area della Roma di Mancini che in realtà un po' come quello di Parolo per capirsi simile un po' anche a quello di Keita alza la gamba ma liscia sia pallone che secondo me anche giocatore quindi anche in questo caso l'intervento secondo me non era da rigore era semplicemente un... poteva sembrare ma bastava anche rivederlo ripeto se Giacomelli ha visto una cosa in diretta il VAR poteva tranquillamente vedere che invece non c'è stato nessun fallo quindi un rigore che non era da dare però è stato dato quasi a compensazione sia dell'errore precedente e sia secondo me a compensazione anche di un rigore che secondo me tra tutti gli interventi in area era quello forse da poter dare ovvero sempre un intervento di Mancini questa volta un po' scomposto su Ibrahimovic che ci mette il fisico ci mette il corpo e le braccia ma che secondo me non fa fallo su Mancini mentre Mancini con il braccio alto va a toccare il pallone quello secondo me era un fallo da rigore comunque non è stato dato è stato dato subito dopo quindi diciamo alla fine un rigore è stato dato anche se è stato dato quello che secondo me non c'era e le cose sono state riequilibrate ripeto ai punti anche per l'ultima azione gli ultimi 5 secondi con Romagnoli che comunque andava vicinissimo al gol con qualche occasione in più del Milan con un palo del Milan diciamo con gol più concreti con azioni più concrete rispetto alla Roma che magari è stata agevolata da alcuni errori penso che il Milan meritasse la vittoria quindi possiamo dire due punti persi per il Milan e un punto guadagnato per la Roma questo perché ripeto per me non era una partita che ai punti sarebbe dovuta finire in parità però la Roma ha giocato la Roma ha giocato ha meritato il pareggio probabilmente se avesse vinto forse nulla avrebbe meritato la vittoria più che altro non è che non avrebbe meritato la vittoria a Roma ma non avrebbe meritato di perdere il Milan addirittura tornare senza neanche un punto la Roma forse poi alla fine comunque la partita l'ha fatta quindi se l'avesse portata a casa ci poteva anche stare certo ha avuto delle situazioni un po' che gli sono girate bene a favore però il calcio è anche questo insomma nel calcio ci vuole anche fortuna e se uno porta a casa il risultato anche tramite la fortuna ci può stare però ripeto una partita secondo me macchiata da un arbitraggio indegno un arbitraggio indegno dove il calcio perde perde ecco chi ha perso oggi hanno pareggiato le squadre ma ha perso il calcio ha perso il calcio di dignità di fronte a un arbitraggio e a un VAR così scandaloso bisogna capire che il VAR è una tecnologia che serve per aiutare il VAR secondo me in tutte le azioni di rigore deve essere anche il fallo più netto deve essere comunque rivisto al VAR punto secondo me questa deve essere proprio una regola ogni fallo se si decide di dare un rigore prima della conferma si riguarda subito al VAR ci vogliono 20 secondi però sono 20 secondi decisivi perché questa sera secondo me due rigori che non c'erano ripeto alla fine tirando le somme fortunatamente tutte e due hanno segnato perché se uno avesse segnato uno avesse segnato insomma le cose potevano ci sarebbe potuta essere una critica in questo caso sono state riequilibrate le cose quindi c'erano non c'erano questi rigori non hanno portato non hanno cambiato nulla in sostanza però non si può vedere arbitraggi così che poteva clamorosamente condizionare una partita tra due squadre che invece sono scese in campo e hanno giocato molto bene Zeko e Ibra sono due sono due colonne ripeto sono due giocatori che immortali vabbè uno è Dio on terra lo dice lui stesso quindi eterno proprio per definizione l'altro è un giocatore che si dà sempre per finito ma che in realtà è il trascinatore quello che ci mette la zampina fa anche molti errori per carità ha avuto un'occasione la sparata alta invece di tirarla a bassa all'angolino però è un punto di riferimento pericolosissimo lì davanti Zeko la Roma senza Zeko secondo me perderebbe il 40% del suo potenziale e se fosse andato alla Juve avrebbe dato moltissimo alla Juve avrebbe tolto moltissimo alla Roma quindi sarebbe stato un grandissimo errore e poi in più c'è Petro Petro per chi mi ha seguito sa che io ne ho sempre parlato bene ho sempre pensato che fosse un grande acquisto e che si sarebbe sicuramente confermato un ottimo giocatore perché comunque ha l'esperienza e la qualità che non è che sbagliscono da un anno all'altro l'unico problema potrebbe essere che qualità e problemi fisici ma se il giocatore sta bene il giocatore è un giocatore di qualità che anche questa sera l'ha dimostrato dall'altra parte un Leo che poi all'ultimo per nervosismo o ammunizione tutto quanto ha fatto bene più a toglierlo ma è un Leo che ha portato qualcosa in più al Milan diciamo quello è stato soprattutto nel primo tempo l'arma in più del Milan più di Ibrahimovic più del gioco di squadra un giocatore che ha dato due palle e golle ma che comunque metteva abbastanza scompiglio su quella ma sia su destra che sinistra perché poi si spostava destra a sinistra ecco questo è uno dei due casi dove il giocatore può essere lasciato libero però i compagni sanno che lo devono seguire con lo sguardo quindi lo possono servire da un lato e dall'altro contrariamente questo mi riferisco quando io parlo di Akpak però che invece gira a destra a sinistra sopra sotto la Lazio ma che in realtà non ha uno scopo ben preciso nella manovra e quindi i compagni se lo perdono Leo invece ha la qualità di poter andarsi a prendere la palla sia a destra che a sinistra i compagni lo cercano sia da un lato che dall'altro quindi è un'arma in più perché non ha un ruolo definito e quindi può mettere in difficoltà la squadra avversaria come ha fatto questa sera finché poi si è nervosito ed è stato giustamente sostituito bene la partita finisce 3-3 ripeto un pareggio dove ha perso semplicemente il calcio e l'arbitraggio di due squadre che comunque stanno facendo bene forse a Roma deve registrare un pochettino la difesa perché ogni volta che Milano andava in attacco sembrava avere l'opportunità di passare sempre in vantaggio o comunque di fare un gol quindi da registrare meglio un pochettino la difesa però mi sembrano due squadre che possono sicuramente far bene per il proseguo del campionato qui mi fermo ci vediamo con il prossimo video che non so quale sarà comunque probabilmente sarà quello di Champions della Lazio comunque voi cliccate sulla campanellina soprattutto iscrivetevi e rimanete aggiornati vi arriveranno le notifiche per il prossimo video orive dolci alla prossima Sous-titrage ST' 501